Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto affrontare? Non parla. Perché non parla? Alla sua età i bambini parlano, dicono frasi, lei no, solo poche parole ogni tanto. E quando sono io a parlarle è come se non mi capisse. Ma devo preoccuparmi? È come se vivesse nel suo mondo, lei dentro o nei fuori. A volte penso che dovrei smettere. Ma se a me la danza come fai a smettere? Certo che amo danzare, è la mia vita, è solo che non capisco dove sbaglio. Io imparo quello che sento, ascolto la musica, respiro il movimento, così diventa tutto più facile. In fondo, la danza è questo, parlare ad altri usando linguaggio diverso dalle parole. A me la danza è questo, parlare ad altri usando linguaggio diverso, parlare ad altri usando linguaggio diverso. A me la danza è questo, parlare ad altri usando linguaggio diverso, parlare ad altri usando linguaggio diverso. Chissà cosa sogna? Silenzio, la svegli, magari che vola, o che mangia, o che danza, oppure niente, chissà. Sorride? Sorride sempre. Sorride nel sonno? Vuol dire che è serena. Vuol dire che vola. Svegli, magari che vola, o che mangia, o che mangia, o che mangia, o che mangia, o che mangia.